Giovedì prossimo vi porteremo in tutto il mondo, dalla Calabria al Sud America. Io amo la mafia italiana. Per un'intera serata dedicata alla criminalità organizzata più spietata. Io ho visto morti ammazzati, morti bruciati. Articolata. E ovunque. E potente del mondo. Ma lei è sicuro di voler fare questa inchiesta? L'andrà. Le Iene presentano Inside. Giovedì in prima serata Italia 1.